Più uomini e mezzi sul territorio in attesa dell'innalzamento in fascia A della questura di Modena. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha partecipato in prefettura al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica rispondendo all'appello del sindaco Muzzarelli preoccupato per la tenuta sociale dopo l'aumento di episodi legati alla criminalità. 50 i nuovi arrivi che raddopperanno entro il fine anno. Quindi è ragionevole pensare ai 50 già dati che entro l'anno, e questo è l'impegno che ho preso col sindaco, gli organici delle forze di polizia a Modena siano rafforzati come numero di 100 unità di personale nette, doppio binario. Da subito incremento degli organici e in prospettiva entro il 2024 anche l'elevazione di fascia della questura di Modena. L'impegno che hanno assunto è quello di passare da 1 a 500 a 1 a 400 poliziotti e forze dell'Ordine sul territorio provinciale e io continuerò a monitorare il nuovo corso di economia, di socialità e di sicurezza che Modena merita. Sul fronte dell'immigrazione il Governo punta alla gestione dei flussi. Grazie ad accordi internazionali, dice Piantedosi, l'emergenza legata agli sbarchi vede un aumento dei ricollocamenti. Sul tema caldo della fine del reddito di cittadinanza e del rischio di tensioni sociali, l'appello è alla responsabilità per le forze politiche ed economiche e il Governo valuterà gli effetti della misura presa. Credo sia responsabilità di tutti non soffiare sul fuoco. Certo, il Governo non è privo di attenzione rispetto a quelle che saranno le ricadute nella sospensione dell'erogazione. Quindi ci ripromettiamo anche da quel punto di vista di monitorare la situazione e vedere tra qualche tempo che effetto avrà avuto.